Sono un biologo e medico, ma in realtà ho sempre fatto attività di docenza universitaria e mi sono occupato anche di ricerca, quindi principalmente di ricerca. La mia ricerca in realtà è stata rivolta essenzialmente all'effetto dei radicali liberi sulla salute umana, quindi radicali liberi e cellule, questo è stato un po' l'oggetto di base, del nostro interesse. In base a questo discorso dei radicali liberi mi sono avvalso negli ultimi anni delle conoscenze di questo prodotto che abbiamo sperimentato, questo self-food, che si è dimostrato un prodotto ad altissima attività antiossidante, antinfiammatoria, ma in maniera particolare ad attività antiproliferativa. Cioè che cosa si intende attività antiproliferativa? Cioè praticamente quando le cellule vanno in carenza d'ossigeno, in ipossia in questo caso, prendono una via metabolica diversa rispetto alle cellule normali. Quindi per far sì che questa cellula neoplastica ritorni in un qualche modo al metabolismo aerobico normale, occorre sbloccare una via che è stata bloccata, che è rimasta bloccata. Quindi il self-food si comporta da nutraceutico perché in realtà riesce a riprogrammare la cellula neoplastica riaprendo la via verso l'ossigeno, verso i mitocondri. Quindi diciamo nella ricerca abbiamo dobrato cellule cellulari neoplastiche in vitro, prendendo linee cellulari di neoplasia in vitro e abbiamo visto in realtà che il self-food risponde a queste caratteristiche. Cioè riesce a riprogrammare la cellula neoplastica metabolicamente riportandola nel mitocondrio. Si sa che il mitocondrio è la fonte principale diciamo dell'ossigeno, la presenza d'ossigeno e quindi di massima quantità di energia prodotta. Ecco l'altra cosa che volevo invece accennare è che questi aspetti della nutrigenomica, dell'epigenetica e questi aspetti dei quali stiamo parlando sono parte sia di un volume che abbiamo pubblicato insieme agli altri autori che si chiama Parlare al cancro, sia della scuola di alta formazione che verrà fatta praticamente da Giorgio Terziani dove ognuno di queste tematiche viene ampiamente sviluppata. Quindi io inviterei a chi vuole approfondire questi argomenti a iscriversi a questa scuola di alta formazione perché vi dà gli strumenti per approfondire queste tematiche. Quindi è questo un pochino l'essenza approfondire con conoscenze maggiori sull'argomento.